Fare insieme è un termine che indica un'azione bella. Lavorare su un progetto tutti insieme per fare qualcosa di grandiose. Il fare per riuscire a creare rapporti, il fare per riuscire a stare veramente insieme, a conoscersi in una maniera più bella. Fare insieme per me è sinonimo di costruire. Mettere insieme le forze per creare qualcosa che da soli non sarebbe possibile. Raggiungere traguardi insieme. È una delle cose più importanti che credo debba succedere all'interno di un paese. E credo che fare insieme sia un messaggio importante per tutti. Perché si fa insieme ad altre persone e in comunità ci si diverte. Per me fare insieme significa essere felici e condividere la felicità e non soltanto con i propri amici ma anche con altre persone. Bellezza è solo anche magari stare insieme ad altri per fare iniziative come queste. Bellezza è di sicuro un... Qualcosa che creiamo tutti insieme. Tutte le cose che rendono felici. Qualcosa di bello. Che muove l'animo comunque che quando lo vedi ti accorgi che c'è. Il bello educa sempre la persona. Il bello lascia stupiti, lascia con la bocca aperta. La bellezza secondo me si riconosce. La bellezza dell'azione di oggi è mettere ognuno il proprio tassello per realizzare qualcosa. È una cosa che non è che si fa tutti i giorni, è una cosa bella. Indica la bellezza secondo me, non soltanto la bellezza di un luogo che è stato ristrutturato ma anche la bellezza di stare insieme, di condividere qualcosa. Grazie a tutti.